Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Favij e oggi siamo su The Very Organized Thief Comunque ragazzi, l'hanno già fatto tipo un anno fa, non mi ricordo neanche più, forse anche di più Comunque ragazzi, l'hanno aggiornato un casino e mi avete chiesto tutti di rifarlo perché hanno aggiunto cose... Siamo già partiti? Ah, così proprio! L'hanno aggiornato tipo con cose... Ah ecco, perfetto, di Natale, fantastico! L'hanno aggiunto in versione natalizia, dovrebbe essere una figata pazzesca, tra l'altro cose da rubare Allora ragazzi, sto gioco è un gioco dove bisogna rubare delle cose in una casa, per chi non lo conoscesse, eh Ma la vedo di... Cos'è? Non so neanche come si prende la roba però... Ok, allora, eh, vabbè, cosa devo prendere che non ho capito? Io non ho mai visto un ladro con la lista della spesa che va a rubare a casa, ma c'è sempre una prima volta Allora è bellissimo un albero di Natale, che figo! Per rubarlo lo stesso regalo? Anche se... Ah! L'albero! Mica, l'albero intero proprio, fantastico! C'è... Lo lascio qua! Tablet... Madonna quanta roba c'è! Mica, ma hai fatto la cena di Natale, zio! Madonna! E la mezzanotte? Un computer! Posso prendere il... Ce l'avevo nella lista, l'adatto? Si! L'ho preso! Perfetto, ragazzi! Ce l'abbiamo! Uno su... No, 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 ok, ragazzi, perfetto! Voi non conoscete il proprietario di questa casa, è un tizio troppo incazzato Che se lo vedo mi fa più paura dello Slenderman, altro... No, giuro, veramente è pazzesco! sta aprendo, muovi il di dietro ecco per fare, oh ma che carino questo cosino, posso prenderlo? grazie mi è volato il mouse e tutto il resto fantastico, buongiorno stronzo di manchia mi ha ucciso, bello ok, tanto ragazzi è tutto come si dice, randomizzato cioè nel senso gli oggetti sono messi a caso in sto posto, c'è anche la play posso prendere la play? no, la play te la butto lì sotto, perfetto vediamo di muovere il culo prima che torni quel deficiente tanto di qua c'era una sta porta, non c'era sta porta è nuovo minchia l'hanno aggiunta sta cosa, beh un martè, perfetto so come ucciderlo, devo, no, la bici no, mi sa, mi sa che devo prenderla, fatemi vedere la bicicletta, la bicicletta l'ho rubata, e dove cazzo l'ho messa, nella tasca, l'iphone, l'iphone, l'iphone sì, l'iphone sì, dai, no, no questo no, perché proprio c'ha l'insta nella spesa proprio preciso bello il quadro, questo no, no, perfetto sono un genio, sono un fottuto, tu non entri più voglio vedere adesso come entra sto team non entrerà mai più nella vita, fatemi cazzo come ho fatto prima, allora, a parte gli scherzi come ho fatto a salire in quattro secondi, non l'ho neanche visto tu stronzo mi hai tradito, no, sei stato tu dire la verità, dai, anello di diamante questo l'ho trovato, è tornato già, ci ha messo un secondo minchia è natale, fai un po' di festa che duri, mio dio vabbè, apriamo, ho dato una facciata i soldi, profumo, profumo l'ho trovato che poi che cazzo si fa un ladro di un profumo vabbè, intanto non entrerà mai qua dentro come cazzo ho fatto a entrare? cosa? un canguro? ma che cazzo succede? no, no, ma in serio, ce l'ho fatta la tua sorella salta il pranzo no, guarda che sto... l'ho chiuso l'ho chiuso, l'ho chiuso ma devi morire, ragazzi, veramente l'ho chiuso è stato tragico proprio è una cosa impossibile, grazie comunque cosa devo rubare di altro che tra l'altro è rimasto lì l'ho chiuso lì, il tizio le cuffie, le mie cuffie cioè le mie... che poi non ho capito perché perché è entrato un canguro in casa tu e dimmi che un canguro è un proprietario di una casa, cioè fammi capire ma perché questo tiene le mazzette di soldi perché cazzo è mafioso calmi, fatemi capire perché, perché cassaforte, eh non mi ricorderò mai la combinazione, figurati 5, 2, 4, 9, a caso erro, eh, ma va ascolta zio, ma... non è che per cazzo me la sa dire lui, no, vero? senti... guarda che bello cioè, veramente, è stato tragico riuscire porca troia, come hai fatto? come hai fatto? no, 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 canguro di merda canguro di... come ha fatto uscire? per una volta ce l'avevo anche fatta, mi sa chiave, ho trovato una chiave, la chiave dell'ufficio microonde, microonde, microonde lo devo prendere non so perché devo rubare un microonde non me lo chiedete, ragazzi un toast un cetriolo qualcosa mi dice che non lo usi per mangiare no, eh, l'anello un anello di diamante ovviamente messo in garage che non mi serve, tra l'altro fantastico l'ho trovata una in cro... una sola in croce silver... cos'è silver candace? una... una... una candela di... di argento non l'ho capito che cos'è silver candace pocket watch l'ho trovato è arrivato adesso no, raga, ecco perché non è... ecco mi sembrava strano che non era arrivato nessuno vaffan cuore chiudi mi sembrava strano a me io... io... io ho un pupazzo non t'azzarazzare avvicinati che ti faccio superare vivo da questo pupazzo demoniaco difendimi si sente un cazzo ma respira sto uomo sì il profumo eh... dici tal camera me ne ho un can due eh... silver cand... dove è sto silver candace raga? no, 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 no non l'ho visto, non l'ho visto mi chiedo, mi chiedo, mi chiedo sì mi son chiuso non mi ha trovato non mi ha trovato sì ci sarebbe una musica di me tagliare di sottofondo eh, per esempio a parte di scherzi e non te lo prendi nel lilly no, 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 no che cazzo cioè, vai, 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 sei un orso inutile, stronzo sì l'ho ucciso con la sedia non l'ho ucciso non l'ho ucciso cioè, avevo quasi creduto bastardo bastardo non ce la fai a scendere no, ce la fa a scendere vaffanculo vai, 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 vai cosa devo trovare? cosa devo trovare? no, 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 no non mi avrai non mi avrai eh, facciamo una cena di Natale guarda, io ti do il panettone io ti do il panettone sappiamo uno champagne sappiamo... perché non hai la faccia? bravo no, 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 no eh, ma allora sei stronzo ti offro bottiglie e tu le rompi pure cioè, io te le porto con tutta la mia gentilezza e tu le rompi mi sapresti, per favore, dire dove trovare una silver candlesticks e una un lingotto d'oro dove li tieni? ascoltami, zio è stato un piacere chiudi dove la trovo? ecco, l'ho trovata silver candlesticks vaffanculo la lampada a me tiene fermo e a lui no, certo sto deficiente ma ancora che mi sa... ancora fatti i cazzi tuoi niente proprio la gente la privacy neanche no, no, vaffanculo non riuscivo a entrare non riuscivo a entrare ne mancava una tua madre brutta non ci posso non è possibile dai, a parte di scherzo deve morire ma ancora l'ingotto basta quanti lingotti devo trovare? non ci sono lingotti basta tablet tablet l'ho trovato perfetto stavo anche ruttando se vi interessa chiave posto questo l'ho trovato questo l'ho trovato ah, non era Christmas padding un padding nel dubbio me ne vado perché quello sta arrivando ho aperto sì sì ho aperto di qua non ci entra perché non c'ha manco lui la chiave perfetto 9991 ah, è la password della cassaforte mica che password della madonna non ho visto sono salito no, 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 no mi chiudo nella cassaforte mi chiudo eh, cosa devo prendere? mi apri sta cassaforte per favore mica che password anti hacker proprio complimenti Harry Potter visto che bravo la mia parola d'ordine eh, la madonna era qui lo sapevo che era qui il bello è che sto gioco in sto gioco non c'è l'audio ma minchia ma fa una caga quando mi prende il tizio mi ha visto mi ha visto mi ha visto mi ha visto non mi prenderà mai non mi prenderà mai invece mi ha preso bastardo t'ho chiuso sì sì che culo spegni le luci spegni le luci che non mi vede spegni le luci devo rubarti i regali devo rubarti i regali devo rubarti i regali devo rubarti i regali anche l'albero quanto ci hai messo a farlo ti stupro anche l'albero di sopra di sopra che lo chiudo se riesco se riesco a chiuderlo madonna madonna vieni qua entra qua dentro vieni qua vieni qua dove sei dov'è mi ha perso ah l'ho seminato di brutto ce la sto facendo devo rubare la roba di Natale prima che mi veda di nuovo spegni le luci di merda dove si spengono dov'è l'interruttore di sta eccolo ok non mi ha visto 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 perfetto perfetto ok 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 dove è la luce in sto posto ok piano no 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 non scherzavo 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 vai 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 no 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 non mi ha visto no bastardo bastardo ti chiudo si si me lo pupi questo per Natale questo tutto nel pacco per quanto mi riguarda puoi startene anche lì chiudo la porta no 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 non ho sbagliato io cazzo ho sbagliato come un coi no 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 rega non è possibile ritratto di una ragazza da trovare ritratto di una ragazza grazie mi spieghi che cosa cazzo me ne faccio questa volta sembra facile perché so dove si trovano la maggior parte degli oggetti la bicicletta la bicicletta la so e qui allora microonde perfetto braccialetto si si l'ho trovato l'ho trovato perfetto tv 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 l'ho presa mi cazzo ho quasi tutto se io prendo questo e lo metto sulle scale tipo così tipo qui si minchia che salto beh perfetto ragazzi ci siamo computer di qua di qua la password non c'ho la password si 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 ho capito si l'ho trovato ecco perfetto era il case devo trovare dov'è il coso per la password 8 3 no 2 6 3 8 vai 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 veloce veloce 6 3 8 6 3 8 sta arrivando con la macchina quel pezzente di merda vai vai dai cazzo si ho trovato tutto di uscire eh ma c'è quel no è entrato vaffanculo ho anche un casino di soldi in più che tipo mi danno punti quindi boh musica si dove è ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta si 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 me lo può puppare tutto allora aspetta che lo vado a cercare così faccio la boccazza e poi esco no dove cazzo sei zio 40.000 dollari di cash fantastico professionista belladro professionista troppa roba non ho capito perché la seconda volta mi è uscito un canguro se qualcuno di voi me lo spiega è stato fantastico ragazzi concludo qui perché troppo for troppo quindi ragazzi se il video vi è piaciuto mi è solito lasciate un commento mi piace anche un bacione di facebook e come ogni video trovate nella descrizione se non siete con il risultato di iscriverti amici ci vediamo nel prossimo video bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti